Volevo dare il benvenuto a Starbucks perché è un'azienda che è molto vicina all'ambiente, alla sostenibilità, ha dato tanto decoro e lusso a questo nostro punto luogo importantissimo, super frequentato. Sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi che ci siamo dati per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e quanto riguarda l'ambiente e ringrazio chiaramente tutto lo staff che quotidianamente ci si confronta.